La priorità al momento riuscirà a prorogare i contratti in scadenza. A fine mese la norma c'è già, è stata approvata in giunta e il passo successivo sarà il via libera dall'Assemblea regionale in un modo o nell'altro. Dovrebbe infatti essere contenuta all'interno della finanziaria che però difficilmente come ogni anno d'altronde potrà arrivare entro la scadenza. Quindi la norma salva precari e probabile venga agganciata all'esercizio provvisorio, provvedimento che concederà qualche mese in più per arrivare all'approvazione della manovra. Questo è in sostanza il paracadute che il governo Crocetta ha studiato per i circa 13.000 precari degli enti locali dopo che la norma ad hoc contenuta nella legge di stabilità approvata dal Parlamento è stata tagliata fuori a causa dell'accelerazione della crisi di governo. La proroga, l'ennesima calcolando che alcuni lavoratori sono precari da oltre vent'anni, permetterà di blindare i contratti almeno sino al 31 dicembre del 2018. Intanto si penserà come arrivare all'assunzione a tempo indeterminato, assunzioni che la norma nazionale avrebbe dovuto agevolare. Il presidente della regione Crocetta garantisce che il suo governo ha lavoro sulle stabilizzazioni e previsto l'obbligo dei comuni per le assunzioni nei limiti della pianta organica con riduzioni dei trasferimenti regionali per le amministrazioni che non rispetteranno questo accordo. Ad ogni modo il dialogo dovrà passare sempre dal governo nazionale qualunque esso sia che dovrà farsi carico anche di questo nodo tutto siciliano.